Anfaccia a tutti ragazzi qui Canove bentornati in un nuovo video, mi son mutato con noi su TS e ora faremo anche un team con un nuovo team, siamo 3-0, 3-3 vinte, 0 perse, tutti i diamond, go! Ho iniziato a arriccare raga Ho iniziato a arriccare Va bene 1, 2, 3 Comunque stavo pensando di farti fare a telecollo Si, me l'ha detto Leon Perché c'è troppo casino quando Quando si fanno i teamfight o si chiamano le cose Tutti qua, tutti qua, no, 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 no Fasta, 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 caro, caro, diverso Arriva, arriva Ecco E se hai gli stili pure il rosso, capito? Allora, smart però, ti ho passato da qua sopra Aspettiamo un attimo l'altro Si possono aver visto se qualcuno si è qua Ah, ma ero votato No, la via qua, guardi, tranquilli Direbbe ruoteare Tutti insieme Caso ci volessero venire tipo da dietro Ah, bravo, buono Ora, caro, vai avanti qua, senza guardare, vai avanti No, la guarda Il Geo, il Geo fino a qua Ma, vabbè Oh, dietro, dietro Un cacchio Basta, basta, bene così Guarda, una guarda qua No, dobbiamo rimanere là Ma se abbiamo guardato la Geo, credo, non è così Ma che sta anche lui in teleport Oh, se stai a cina Ma se ne fusti tu Semplicemente potrebbe aumentare il Diminuire Si, va bene, insomma, ci siamo capiti Si, si Minere la sensibilità del microfono Si Parti dai lupetti No, non ci parto Non ci parte Stavo durante a pensare Dai vai vai Non ci siamo capiti Vabbè Vabbè Cazzo No, 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 no. No, finchè non sblocca lei. Mi hai fatto mancare tipo... Sì, due, sì, due, se non di più. Wow, ce l'ha mancato. Buona. Che uomo, top. Easy, però, easy. Cioè, stavo a rischiare di morire? E' ovvio che rischia di morire. Però lì non c'è neanche il TP, io so quanto è stata buona questa cosa. Può che c'è il TP. Può che c'è il TP con il rischio che viene... Che viene scannato, però lo devo fare. Non c'è il TP perché ha fatto il 2. Io ce l'ho il TP. Può che c'è ritornato. Quel mini è saluto, tipo Dio. E' vero. No, venghi, venghi, venghi. Wow. Ma questo Morgana ha piccato Morgana perché... Perché ha piccato. Perché ho visto un po' di play scaffato. Tipito l'ho fatto. Perché lei ha il P. No, ho matirato il coso. What the fuck. Ma non so quanto. Vabbè, ancora qui. Ho mancato mille pièces. Good day for farm, proprio. No, veramente, sto avanti. Sì, ma... Sì, ma è tipo... V, per colpa mia, avrei visto tipo 6-7 million, poi... Quindi è colpa tua. Sì, vengono da portare. Vabbè, vengono da portare. Vabbè, vengono da portare. Scanner, scannarci l'attenzione. Occhio, occhio. BAN! Ha anche bancato. Tre secondi grab. Ah, si è muossa. Penso che... Dove ne ho? Sto venendo. Vabbè, prendere quel cazzo di mina. Arrivamo anch'io, arrivo anch'io, arrivo anch'io. Eh, ma se ne va. Dov'o? Occhio, occhio. E' riva, va. So su plan, mira? Dai, ci ne ho fatto. Debate. Non c'è il flash, la di me, il progetto è un po' qua. No, via, via. Che collo, eh. Comunque, è calcolo che è tipo... La rara volta dove compro relic su... su... su trash, quindi... Sono molto abitato con relic. O vero, non c'è il flash. Eh, nemmeno io. Ha fortissimo relic su trash. A me non lo so, mi piace più ingaggiare... Sai, sai, di brutto, con le le coin che fa gli ingeggiare. Vieni quello, vieni quello, vieni quello, c'è il cazzo un po' lungo. No, io ve lo prendi, vabbè, il carretto, ma... Ah, lo volevi prendi? Da vita. Puscia, 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 puscia. Allora, tra due minuti c'è il tp e potremo cercano con l'aldrago, perché... Siamo molto più forti del loro. Sei sicuro che va ganca top? Sì, sì, vengo. Non hai flash. Ma io non c'è mano. Che cazzo? Se abbiamo culo ha perso il carretto. Occhio, occhio, cinocchio. Sei c'è una... No, non ganca, non ganca. Dai, al quattro, lui è da ulti. Buona vicina. Sto facendo il grab, eh? Bravissimo. Eh, Skarner midos. Ah, io non fuscia la master wave, c'è? Bravo, bro, cino. Non pensavo ci sono tutti questi danni. La Skarner si vanna a forzare il drago, sì. Ma prendi anche da guinno. Eh, lo guarderò io, il drago. Ci vado a provare a controbattiglielo? Controbattiglielo? No, non ho word per vedere. No, non stanno andando andando andando. Ma sono due comunque, Morgane e Skarner, quindi ci mettono no. No, non sono fatti. No, mi stanno qua. Hai, hai. Hai lasciato quando andari dentro il fogo? Ok, che bug? Cazzo fatti. Eh. E' rinato l'OTP, se vanno a fare il drago qualsiasi ora. Non ha tp3 a 50 secondi, no. L'ho usato ora. Mi hanno guardato la giungla, forse. Mr. Neltoncina, ora tu divieni top, proviamo a chilarcelo e poi è una more word a deep per la giungla, che c'è un po' di word, capito? Ok. Vabbè, non c'è bisogno, c'è bisogno da solo ora. Prendo il carretto? Neltoncina se sta a fai gol, non mi sa. Ma se sei io vengo a bot. Venti, giochami, no, salvo. C'è un tp3 a 50 secondi, se vuoi di gran comitano. Eh, non è ignite però eh. Fammi una guarda un attimo, ce l'ho io in ignite. da sotto torre tra un minion c'ho 6 ah, 2 minion dai lo devi sposta un pochino varus per cazzo hai preso un botto oh bisogna di 2 minion ah, 2 pozzo non c'è il mid mi sa anche il renetto quello ho dato eh, qua missile mid, è un po' se viene top oh, mi sa che è collato per finire no, no, no Morgana no flash che cosa vabbè, la botte ha flashata buffo non so forse era un bait Cina, con le word commesse io allai ti compra a te ok no, però non è ora io c'ho il tp potremmo unnaffa pure il drago devi scander mid? non è, se lo baiti ci sono ci potremmo unnaffa il drago, Cina vai il drago si, si, non sono mai le voglia no, andate al drago, ho pure il bot, c'entete al drago il mid pure te al drago, qui c'ha quello qui al drago non hanno flash e la botte se vi serve arrivo anch'io corti p ok, se arrivano non lo panno contestare c'è una pink, eh? c'è una pink, sì buono c'è una macchetta quando esiste combo così guarda guarda missa non al tp però ho missa no, questo è un gioco difensivo no, questo è un gioco difensivo sta salendo Morgana sta salendo top no, il mid sta salendo oh, allora, allora eccolo, uh, uno ecco il secondo stanno salendo Morgana e Vladivir senti, senti uno grosso GG the bait arrivo al candone in questa way non mi faccio ancora vedere voi io vedo se mi cercano ancora non mi faccio ancora vedere il top stanno cercati stanno cercati ma prendi adesso peccato vabbè ti dò è blu sì, mi serve adesso cuscio senza ritegno prenda gs differenza, k ma pronta, fa il quattro perché varus sa per lì perché varus ma, ma perché è diamond non è first item virus perché ha visto lgs bro ma è diamond almeno è diamond 2.5 è diamond 5 è diamond 5 è diamond 5 è la gente che trova un solo cuglio no, no io trovo peggio ma non credo, guarda grazie vieni, vieni, frica anche io trovo cane no no ora tu ti risponde più no di shit bro hai comprato le world per andare in giungla vai a meteo che è morto il top una qua e una qua vabbè qua già ci sto e sei non so prendimi 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 con la q prendimi con la q prendiglielo tutto uuuuuh eeeh lag no 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 sto arrivando qui da piedi lo stavo troppo sto anzi arrivo a botta caro c'è la lanterna? no tra due secondi non cazzo pronto? c'ho pure lignate vai uuuuuh non c'è grazie ho preso me non c'è nonna non ho preso un acconto della partita non ho preso due ore che sentivano che ferro io ho fatto che sentivano che ferro io ho fatto che sentivano niente non c'è nonna che sentivano che lo hai detto mi hai preso due minuti ma qualcuno caro caro vieni qui devo andare top e tu vai mid che devo fare? si 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 però ce la fai, prendi pure un bar pod minio è 0-4 ok it's been a long day adesso vengo bot, preparatevi tra 40 secondi ho la ulti controlla se questo push è guardato l'ormi sa che sono noti back non c'è stop back lui non sono qua quindi ma bantano bot non c'è 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 con un gol per me comunque la proposta e' un po' il drago dopo il grado 20 secondi forse allora dopo il drago perso io busciò dopo e vado a 4.000 non riesco a chiudono se sono questo per favore come state attenti ricercate un po' di spiega tp per venire guardare la scatola ho visto che sono visto Si è tornato giù Arriva a chiuderlo, arriva a chiuderlo Cina E muoio Vabbè, ma è bad Ho flisciato vlad Ho flisciato vlad Ho flisciato vlad Gli ho fellato, pulona su scanner C'era Nekton Una finchè qua Trovo tu non devi andare là sotto, è così Io No, no, dico Cina No, l'ha preso scanner Eh, tu non ci vuole far prendere Sta salendo, Nekton Ok, ok Sofamo? Ci sono Porco Ma basta, basta, basta Ah, basta, basta Non so chi c'è sta dietro 10 secondi a drago Ma io c'ho il TP E Renekton non c'ho la ulti, perfetto Io mi devo vado a drago Facciamo una torre serie Stanno è qua, veloci 3, 2, 1 Io c'ho il TP, se vi serve, vengo, se no no 10 secondi alla smite Ma non credo che vi serva lo smite Tanto Difendetemi la Milde, pushatela Mori, guardiamo tutti E poi, famo come ho detto io Ma non arriva neanche il mio beccolo Ciò, ulti, dracolando Vabbè, ma la Milde, ma la prende dello stesso Sì, non ha vita la Milde, basta, non ha l'attacco Ok 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 Eh, andiamo a bot? Perché, boh, ci prende la torre Allora, muovo e pushata la torre bot E poi, venite, mi da push Non ce la dovrei capire Se ultolo prendiamo, se resta pushata Ho l'exhaust e flash No, no, non era stato Ma rimasto Eh, spero, l'ho sentito io, lo sento Ah, ho grittato Che ho guardato The damage Comunque, servono visionnaggio Lo mando a scoprire Con tra i due word Io avevo comprato il doppio word Anfetto Adio, mi da, mi da, mi da È morta Cina 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 vinta qua Pura Che sa? Non sono so sicura No, lo tolta, mi pare L'abbiamo tolta, beh No, perché il scanner La, vado a pingastro Mi pare, d'è, c'era un altro Vai primo sestatore, scendono mid, scendono a bot, Vladimir e Morgana No, stanno ancora ok Vabbè, meglio io che te Vado e Morgana da qua Scendo Morgana da lì, io o... Se volete potremmo tipo fare un fai, Morgana sta a bot Allora, regà, regà, dobbiamo push a mid, dobbiamo push a mid, guarda questo Dobbiamo andare, dobbiamo andare push a mid, andiamo, 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 andiamo No, ma allora continuano a bot Tranquillo Ok, Morgana non era qua, eh Eh, sì, io ho visto male No, occhio, regà, troppi danni, questo mi arriva E poi, caro, per bot, per bot, per bot Ce l'è l'ulti, Victor? Ce l'è l'ulti Sì Però, se no, non tanto Ma quello è morto ALTERNA Lanterna l'avevo usata su plane per evitare... Io te le porto, non c'è problema L'animo è più niente L'avevo usata prima su ultime, dubito che ce l'abbia adesso Ah, ok, allora Va bene, l'arica non è utile, lascio ora L'uso script Ah, finalmente il face of the mountain, l'unico, i cazzi che mi... Poi fatti anche il locket Sì La top riesce ad andare Sì, sì Ah, sì, sì, dici l'Iron Solari Io c'ho il TP, eh? Ah, sì, sì, me lo faccio Andali tutti bot, andali tutti bot Ahhhh R-C, Cina ha fatto il glory Ok Non lo fai te? No, te lo fai te Vabbè Tipo, fallati Ciao, Brium Eh, Rude Oh, Scarner qua Due minuti a Drake Ma visto Oh, Varus Alla, ricallo Ho il TP con le Omgarde, eh Varus Varus Andiamo, andiamo, andiamo Mi intanto dirò la terra per... se per caso lo uccidete prima Ah no Vabbè Un assist Cofro la mid, cofro la mid e mi killo Vladimir Un assist Cofro la mid, cofro la mid e mi killo Vladimir Buiciamo, buiciamo Aspetta, lasciatemi il carretto Ok Dadimir no flash Buiciamo no ward Dadimir no flash Busciano la top, eh però pure Non vuoi bucciare bot, io buscio mid Tranquillo E' il mio cuore l'ottica che potete Ok, ora vado top perchè tanto guardate la scanner stanno qua Cioè vado a prendere la seconda bot voi? La facciamo Sì, sì, ho voglia Tranquillo Ok ora sto a cover alla mid Vedete possiamo... Back, back, back No, no, abbassa, passa Vediamo a scanner Tra un minuto Drake, riva No, non ho tanto lo scanner, va via, regalate tutti Ah no, invece rimani, se volete venite a chiudere se volete Da bene, arrivo Da bene, arrivo Da bene, arrivo Da bene, arrivo Eh, se ne va Eh, lo sanno Un giorno dopo Perché la gente mi chiama, se non ti rispondo dopo 8 squilli, cazzo, attacca Prende, fatti così Lasciamene uno Via la cata Vi sanno Un anno Un anno Un anno Di 3 Cino dopo ti insegno a mettere Push thera VAP E se muta Sì Dalla Ma se non mi spiego come si fa a mettere Push thera Entravi in 16 Sì Legalo arrivo Arriva a piedi perché non ci fa parte più il vale push arrovo un secondo oltre 8 facciamo un testo io torno dopo tanto dire che dovresti farlo da soli se si ma ti ho tanto pure se cerca di venire scartner l'icc ce l'abbiamo insomma vogliamo uccidere giorgia ma andiamo tutti mille continuo top io ok non fatevi chiudere ok non fatevi chiudere bravo si viva mid con loro hai perso il caretto ti ho blu eh no vabbè andiamo continuate mid, continuate mid eh però sono miss tutti tranquillo ci sono il baron eh può darsi eh sono fatti il baron sono fatti torre 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 via torre via comunque non c'hanno scartner e varus la ulti marca droia ha fatto un barbarietto bari bravi bravi bravo 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 infatti nessuno che difenderà niente non c'è stato di bravo 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 guarda in realtà può essere pure worth dal punto di vista del della situazione però nel totale del game non è worth per tornatori mid e già stai sotto tanto il base gioco difensivo e loro il baron non lo sfruttano capito povero tot sì tanto ci sto io con le omgad tranquillo thank you bro guarda un po' ci stanno scaduto tutte le volte stanno clareando allora io compro una pink c'ho il doppio sento mid qui c'è ok qua c'è una pink una pink anche qua una ward è qua il baron sono fatti superciò a 22.30 quando abbiamo preso la torre non c'è scritto botte raga le pink mettiamo le difensive no no giacca li ha cercato lì arrivo anch'io bot cerchiamo dei mafosi insieme ne sono 2 o 3 mid però eh sta scendendo pure la netta questo anch'io uno mid che sale raga e' veloci salite tutte salite tutti facciamo io vulto te e' effettivamente si 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 baron è quasi finita facciamo tu skerner ma se non volevo andare per i 5 trick tranquillamente no no non ingaggiamo non ingaggiamo non dobbiamo ingaggiare stiamo solo qua aspettiamo che finisce il baron ingaggiamo quanto vi manca? 30 secondi ma 30 secondi saranno pure di meno no no oddio è a me no aspetta spero finisce posso prendere il timer del baron è quasi finito è quasi finito il baron aspetta 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 venite con... io vado da dietro io vado shirai divini come da dietro oh ulta 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 civil ti ho quasi lasciato ti sarvo io in qualche modo fai ghiazzo sto beccando non l'ho più vista guarda se mi scappa mancazzo ooooo voglio all'attacco grande head buono raga forse il flash su skerner era troppo stanno fottendo non è che l'ho sbagliato ancora non l'ho capito vai te vuoi vado se no flash una vita silamogli tutta la giungla silamogli io vado rosso una blu tutta la giungla io dovessi la tutta la cassa di giungla fate le noce e poi metate due minuti a drake 1.5 vieni red vieni vieni si vede ma al red facci andare c'è vado io al red ah ok 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 ah dai non c'è va bene va bene tranquillo guarda se tu vuoi fare un bot c'è il red è nostro il nostro junker che se lo prende quanto manca il drik? ah comunque il mezzo quindi voglia ok tempo di ricollare gli esponotura rosso porca trota io c'ho il tp eh un minuto un minuto drake dovremmo uccidere george c'ho l'ho ulti prima che lo faccio prima che lo faccio il ciotto continuo io non ti ho giocato in più ultimo il giusto è il tempo arrivo lì non va riuscito sto troppo lì se sta fa la sesta build di cose sia prima quella build lì è forte per quando giochi mid lane quando giochi bot la dc è ovvio che l'infinite age fa la differenza non la mano a mone cazzo a meno che non sia edrial eh... guarda che edrial fa un po' che l'ha cuffa a danno che l'ha cuffa a danno io ultima cuscia dopo, andrà a farmi... mi sembra più forte... mi sarebbe più forte la... la cosa eh... stesso discorso per kogmaw il fatto che a kogmaw mi serve due anni mi resta d'opera sono tutti e quattro a quattro faccio il blu, faccio il blu e poi dobbiamo prendere una... un minuto al baro la torniamo tutti dopo, si, si un minuto al baro ah, la c'è una, un minuto al baro io direi di farci prima la torre e poi pensare al baro ok, si si vabbè, io quelli la mid li chiuderei guardo, guardo la base, allora aspetta, resta, resta la cina resta qui, resta qui io non ci sono eh ok ok ok, fermo qua ancora una ward no garu, annaggia, attenti di far vedere vai 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 oh, ma che cazzo li hai tirata la... la cosa dell'altro lato? ci ringaggio? vai vai quanto morto per morto, meno vi fate tutti voi varosu, varosu, varosu fatemi vedere il minuto se meno che bag del cazzo mi fa come cazzo gli pare quello c'ho il tp comunque, finirò gg war player che è quello che ho finito? tu sei morto una volta che stai a dire? non so una volta ma come non sei morto quella volta con scanners? no no, io non è morto non so il caso perchè ha flashato ha fatto la ponte tutta allora, mamma aspetta fammi finire un attimo da fa l'intro del video ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi do a lasciare un bel like se vi è piaciuto un bel commento eh e ci ne ha rotto un culo infatti a tutti i ragazzi che ne lupo se volete salutare gà ciao ciao bai bai